Benvenuti a tutti a questo nuovo video e a questo nuovo tutorial. Oggi impariamo come collegare i nostri Google 3 al nostro cellulare in maniera wireless, finalmente senza cavo, senza niente, che ci rallenti nei movimenti o ci infastidisca durante il volo. Sarà un'opzione molto molto facile, vi farò vedere. E adesso per farvela vedere al meglio sul cellulare ho già fatto i passaggi, ma ve li ripeto per voi e ve li mostro direttamente sul cellulare. La prima cosa da fare è andare ad accendere il nostro visore. Ok, eccoci alla schermata iniziale del nostro visore. Dobbiamo col joystick premere verso il basso e ci compare la tendina nell'alto. Come vedete, tra le voci selezionabili possiamo condividere la visuale in diretta tramite Wi-Fi. Ci clicchiamo sopra, ci comparirà un'altra casella con scritto che bisogna aprire l'applicazione DJFly e nella posizione che adesso vi faccio vedere, qui sul visore abbiamo finito per il momento, come vedete qui in questo momento ho Quick Transfer e diventa dispositivi Wi-Fi. Ci trova Google 3 rilevato. Ci clicchiamo sopra e prima dispositivi nelle vicinanze, adesso che io l'avevo già fatto è nei miei dispositivi, ci clicco sopra e inizia la connessione. La prima volta, per confermare che siamo noi e che vogliamo farlo, ci dirà di tenere premuto per due secondi il tasto Power del visore. Quindi tutto molto facile. Visualizza in diretta ed eccoci che siamo tornati alla nostra schermata principale. Come vedete poi ci possiamo muovere e vedere quello che vedono i nostri occhiali. Ovviamente possiamo attivare l'antimpannamento, possiamo tornare indietro, andare nelle varie impostazioni e vedere le riprese che abbiamo fatto. Molto, 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 molto comodo come vedete, soprattutto se abbiamo qualcuno che ci sta vicino e ci assiste per far vedere anche a lui quello che stiamo vedendo da noi e farlo godere del panorama. Poi ovviamente usando il joystick per muoverci possiamo usarlo anche come schermo noi, quindi noi abbiamo lo schermo da una parte, il joystick dal visore dall'altra e possiamo comunque andare a lavorare guardando normalmente su uno schermo. Molto, molto utile e soprattutto guardate, zero cavi assoluti. Ovviamente sul cellulare dovrà essere attivato sia il wifi che il bluetooth. Se questo video è stato utile mettete un bel like che sia me che l'algoritmo di YouTube fa molto piacere e per voi è gratis. Iscrivetevi al canale perché come questo tutorial ne faremo tantissimi altri, soprattutto se anche voi vi siete appena comprati questo drone. Come al solito ce li sarino a tutti, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ciao sono Mini2, per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra, in alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te, in basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone, in basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui, ora devo andare!